Ancora un sopralluogo sulla discarica di Villa Carmina Montesilvano, dopo il sequestro effettuato dalla Capitaneria di Porto di Pescara, a partecipare ieri c'erano Regione, Comune e D'Arta in qualità di consulente tecnico, una ricognizione tecnica nel corso della quale l'attenzione è stata concentrata lungo l'argine e l'alveo fluviale e dove sono state rilevate alcune situazioni che necessitano di ulteriori verifiche geologiche al fine di valutare gli interventi più adeguati da porre in essere. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha poi voluto ricordare che la discarica di Villa Carmina si trova su un sito che ricade, per la maggior parte, su un'area demaniale e per la restante su una di competenza comunale. Per la messa in sicurezza della discarica, infatti, e la risoluzione definitiva delle criticità, sono necessari rilevanti somme, attualmente non nelle disponibilità né dei bilanci comunali né di quelli regionali. Nonostante le difficoltà, le istituzioni hanno annunciato un lavoro sinergico per poter arrivare, in tempi brevissimi, alla soluzione dell'emergenza affinché venga garantita la tutela della salute dei cittadini, poiché priorità assoluta è stata data alle attività di bonifica. Nel frattempo, dopo le analisi dell'Istituto Zooprofilattico, il primo cittadino ha emesso una nuova ordinanza che ha declassificato i molluschi bivalva raccolti sul litorale del tipo vongole da A a B, vietandone cioè il consumo diretto, poiché, secondo le analisi, avrebbero registrato valori fuori norma di Eschirichia Coli, che è l'indicatore primario di contaminazione fecale.